Salve a tutti, buon martedì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video vediamo le cifre ufficiali per quanto riguarda la riforma IRPEF in arrivo tra un mese e mezzo circa. La riforma avrà un impatto sui redditi netti a breve termine, portando così benefici grazie alla neomanovra approvata dal governo. Nel corso del video analizzeremo chi beneficerà di questi aumenti e di quanto aumenteranno dunque le pensioni. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare come sempre un mi piace in questo video per supportarci, grazie. Parlando dei benefici della riforma IRPEF che coinvolgerà anche le pensioni, intendiamo un leggero incremento del reddito netto grazie al risparmio derivante dall'accorpamento delle prime due fasce per il 2024. Chi sarà dunque interessato a questi aumenti? Vediamo alcuni esempi. Il beneficio riguarda coloro che hanno una parte di reddito di pensione compresa tra i 15.000 e i 28.000 euro lordi annui. Il calcolo dell'IRPEF su questa fascia di reddito che precedentemente era il 25% sarà ora applicato al 23%, comportando quindi un risparmio del 2% su tale reddito. Per coloro che hanno redditi inferiori ai 15.000 euro lordi annui la situazione non cambia in quanto l'IRPEF è già fissata al 23%. Ma ora amici passiamo subito agli esempi. Su una pensione lorda di 1.000 euro annui non ci sono variazioni in quanto il reddito, come appena detto, è inferiore ai 15.000 euro. Tuttavia su una pensione di 1.200 euro lordi si avrà un modesto aumento di 12 euro netti all'anno corrispondenti a circa 1 euro al mese. Ridicolo. Le pensioni da 1.400 euro vedranno invece un risparmio dell'IRPEF di 64 euro l'anno, ovvero circa 5 euro mensili. Le pensioni di 1.600 euro avranno un aumento netto di 116 euro annui netti, meno di 10 euro al mese, mentre quelle da 1.800 euro vedranno un incremento di 168 euro netti all'anno, corrispondenti a circa 13 euro in più al mese. Per le pensioni da 2.000 euro il risparmio dell'IRPEF sarà di 220 euro l'anno, ovvero a circa 17 euro al mese netti. Infine sulle pensioni di 2.150 euro lordi si raggiungerà il beneficio massimo di 260 euro in più all'anno, corrispondenti a circa 20 euro al mese. Oltre tale sogno il beneficio rimarrà comunque fissato a 260 euro l'anno.